E' stata conferita a Rav Luciano Caro, rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara, la cittadinanza onoraria della città, in una partecipata cerimonia tenutasi al ridotto del teatro comunale a Bado. Il sindaco Alan Fabri ha così annunciato il conferimento. La città di Ferrara, riconoscendosi nei valori della democrazia contro qualsiasi forma di intolleranza, conferisce la cittadinanza onoraria a Rav Luciano Caro, rabbino capo di Ferrara, punto di riferimento per le comunità ebraiche, per aver condiviso e trasmesso a tutte le generazioni i valori della cultura ebraica e per aver sempre promosso il dialogo e l'apertura alla città. Il costruttore di pace, come diceva prima il signor Ministro, ha dato a Ferrara un contributo straordinario alla conoscenza e alla memoria storica, nel ricordo costante del dramma della Shoah. Shalom, Alan Fabri, sindaco di Ferrara, Ferrara 11 maggio 2022. Commosso e nello stesso tempo sorridente e ironico, come da sempre contraddistingue il suo carattere, Rav Caro ha ringraziato per il prestigioso conferimento, entrando nel vivo dei suoi oltre 30 anni di attività a Ferrara. Sono molto lusingato e anche molto commosso dalle espressioni che mi sono state rivolte fino a oggi. E vi posso confessare che in un certo momento mi sono mandato, ma parlano proprio di me. Veramente, è con grande compiacimento che ricevo questo prestigioso riconoscimento, questo conferimento della cittadinanza onoraria di questa città. Con piacimento e commozione nel constatare l'apprezzamento di Ferrara per l'attività che ho svolto in città per oltre un trentennio, un impegno nel quale ho molto dato e molto ricevuto. A Ferrara, gli ebrei hanno vissuto momenti non facili, ma anche periodi di tranquillità operosa, integrati come sono nel tessuto della città. Ringrazio pertanto le tante persone di varie estrazioni, delle quali apprezzo quotidianamente la collaborazione spontanea e proficua in molteplici iniziative. Numerose le testimonianze di affetto da parte delle comunità ebraiche, ma anche da tutte le istituzioni civili e religiose, tra cui Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presente alla cerimonia. In collegamento anche il ministro Patrizio Bianchi, amico personale del rabbino capo, con cui ha collaborato anche nei tempi in cui era il rettore dell'Università di Ferrara. Luciano Caro è una figura di riferimento non solo per la nostra città o per tutta la Romagna, ma anche per tutto il nostro Paese. Mi piace però ricordare che il riconoscimento che è stato dato oggi, questa cittadinanza onoraria, è un riconoscimento a tutta la comunità ebraica ferrarese, a tutta la sua storia, a tutta la sua presenza, al fatto che la nostra città di Ferrara non sarebbe la nostra città senza questa presenza discreta, attenta e continua della comunità ebraica. Grazie. 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 Grazie.